Sembrava semplice, invece si infittisce sempre di più in questa estate spezzina la vicenda della famigliola di cinghiali. Proprio questa mattina è stato trovato morto uno dei sei cuccioli di cinghiale che si trovano all'interno del parco della Maggiolina alla Spezia ormai da giorni. L'allarme è stato lanciato dagli animalisti che presidiano il parco da martedì scorso, quando il cucciolo con i fratelli e due cinghiali adulti sono stati sorpresi scorrazzare nel parco. Per questo motivo, per ragioni di sicurezza, era stata disposta la chiusura dei cancelli del parco dalla polizia, che aveva scelto di isolarli per evitare che arrivassero in strada e diventassero un pericolo per gli automobilisti. Successivamente, davanti al parco, si è attivato un presidio animalista che sta sorvegliando la famigliola per paura che le autorità decidano di abbattere non solo i due esemplari adulti, ma anche i cuccioli. Secondo quanto riporta l'ANSA, il nucleo forestale dei carabinieri si sta recando sul posto e con tutta probabilità la carcassa del cucciolo verrà portata via per accertare le cause della morte. Sempre su quanto riporta l'ANSA c'è un piccolo giallo sulla morte del cucciolo. Secondo il veterinario della sanità animale dell'ASL che ha prelevato la carcassa, il cucciolo di cinghiale di dimensioni differenti rispetto agli altri è morto da tempo e la posizione in cui è stato trovato è anomala. In più sarebbe stato trovato rotto e aperto uno dei lucchetti posti sui cancelli del parco. Le indagini sono in corso.